buongiorno buongiorno un buon pomeriggio qui la bella della diretta purtroppo ho provato a fare la diretta live di facebook youtube purtroppo non è andata purtroppo o la non so io farla o non so fare e lo farò con calma voglio fare una live per farvi conoscere il grande pubblico di youtube qua amici miei come state mo falcone tanto caldo sole domani diranno un brutto tempo spette mani c'è il baracco vabbè forza e coraggio andiamo avanti vi auguro una buona serata buon estate fine estate tra un po e che dire altro forza e coraggio andiamo avanti qua caldo mo falcone 35 gradi wow speriamo che tutte e magari la città di mo falcone finita ma ho finito i lavori da mio fratello per fortuna visto con un po di tempo speriamo che sta bene carissima delle grazie dei like il cuore cino va bene se così e che dire come dico sempre purtroppo il canale youtube va come non va fare live deve avere un casino devo salvare non salvare non ho capito come si fa ma però spero che voi state bene ora vado a casa vado a farmi la doccia mi riposo un pochino stasera vado a mangiare un boccone una pizza con degli amici e poi si vedrà vedrà chi vedrà vedrà altro che dire saluto il maestro cantoni maestro cosutta la sua sposa raffaella oggi ricordiamoci bene la festa del cane oggi che hai animali cagnolini date una bella carezza anche cagnolini grandi tutti la festa zero di loro festa la festa del cane bene ora che dire cammino verso casa oggi ho lavorato abbastanza meno male che venerdì perché sennò veramente era dura boh fuori sono del parchi del campo sposo sportivo fa di panciano pancian town boh vi auguro buon pomeriggio fate i bravi mi raccomando iscrivete il canale di youtube fino a che la dirò finché non arriverò a mille persone famiglie persone dirò ogni tanto di cuore grazie di tutto fatti bravi saluto santa tonnelli nardini per noi saluto tiziana da gorizia saluto ivana saluto meri socialisi eccetera eccetera scusate questa è la panichele che non l'ho fatta sono delle delle 5 mi raccomando fate i bravi restate sani e iscrivetevi saluto tario agosto quarto e tutti voi vi voglio bene grazie ancora tutti i miei amici e mie amiche di sparsi per il mondo miei parenti e tutti vi voglio bene viete domani mattina se allo sbaracco di mo falcone così trovate dei pezzi a buon prezzo mi raccomando iscrivetevi speriamo che il tempo tenga saluto anche adesso la laura maria laura maria laura maria laura di roma la signora maria laura della torsia della francia e tutti voi sono internazionale ai miei amici parte del brasile e tutti mi raccomando iscrivetevi iscrivete il canale franco sono un po stanchino adesso non vedo l'ora di dormire andrà a dormire un'oretta un abbraccio ciao a tutti fatti bravi purtroppo il bella diretta non mi ha lasciato caricare la pagina live di la di youtube purtroppo sarà la prossima volta un abbraccio buona domenica fatti bravi e a presto iscrivetevi ciao dai amici di facebook youtube e tutto il mondo ciao grazie a tutti vi voglio bene grazie